Albano Carrisi è affetto da un problema fisico che lo accompagna da anni. Gli anni 90 per me sono stati molto duri. Mi è successo di tutto. Cominciai a vedere sulle mani, sulle ginocchia e sui piedi una strana dilatazione della pelle. Avevo un forte prurito e quando mi grattavo spesso sanguinavo. Si trattava di psoriasi dovuto al grande stress che dovevo sopportare quotidianamente, ha detto Albano Carrisi in un'intervista settimanale nuovo. Albano dunque lotta da tempo contro questa fastidiosissima malattia, ma sembra che il peggio sia passato. Oggi mi sento praticamente guarito dalla psoriasi. Tuttavia, sto sempre attento a non farmi vincere dallo stress, altrimenti il problema ritorna. Ha concluso il cantante, che di certo non potrebbe permettersi uno stop, dato che fra concerti e programma in tv è sempre molto richiesto. L'artista, infatti, è tornato di recente in televisione con la sua compagna di sempre, Romina Power, per il programma su Rai 1 così lontani, così vicini. Insomma, nemmeno una fastidiosissima malattia come la psoriasi è riuscita a fermare il grande Albano.